cari amici buongiorno forse pensavate che i fari si fossero spenti non è così abbiamo avuto qualche scossone certamente il mese di marzo ci ha bloccato drammaticamente come è successo anche a tutti voi ma il piacere di dirvi che abbiamo un gruppo numeroso di 20 persone che sono a vostra disposizione amici dell'ecosistema di trasformazione digitale manifatturiero noi uniti non ci fermeremo ce lo dicono in tanti il contributo dei parchi il contributo di p4fvg sarà quello di assistervi nella trasformazione digitale certi che ne usciremo anche grazie al contributo che noi potremo darvi su due fronti la scienza e la tecnologia digitale su queste cose i nostri specialisti vi contatteranno a breve le rotte vincenti sono il programma del 2020 i fari sono con noi a presto cari amici